La prima cosa che abbiamo in testa è la salvezza, si passa per la partita di sabato, poi dopo la salvezza vedremo avanti, però è quello l'obiettivo il più importante. Con Peres si troviamo molto bene perché per me era più facile, però siamo tutti giocatori importanti, non c'è un giocatore che è indispensabile alla squadra, siamo tanti a poter aiutare la squadra, quindi ognuno sa quello che c'è da fare e in campo daremo tutto il massimo. Il mister mi ha sempre dato la sua fiducia, quando è arrivato ero infortunato, poi dopo un mese mi ha dato la sua fiducia e mi ha fatto giocare in Coppa qui e poi da qui mi sono sempre detto che in campo devi ripagare quello che stai dando. Ogni volta che entro in campo è la sua fiducia che è in gioco, quindi io voglio sempre fare bene e comunque lo ringrazio perché mi ha aiuto a me, mi ha aiuto a tutti i giovani che siamo qui, tutta la squadra e noi dentro lo sentiamo. A me mi piacerebbe essere più decisivo, fare più gol perché hanno fatto 4 con il Bologna e 1 con la Nazionale, però io mi conosco e essere più decisivo è una cosa in cui devo piacere. Corro molto e ha aiuto molto la difesa, però come l'ho già detto per essere un giocatore completo e importante devi sapere difendere e fare gol quando ho la possibilità, quindi è quello che mi piacerebbe fare. Pioli non me lo chiede, però mi dice quando puoi andare in avanti e aiutare l'attaccante a fare gol, lo puoi fare, ma soprattutto mi chiede di giocare semplice ed aiutare la squadra quando lo posso fare. Quando sei ambizioso devi sempre lavorare al massimo perché la strada è ancora lunga. Io sono giovane e ambizioso quindi vedo lontano e so che ho ancora molto da lavorare perché per diventare un calciatore importante si fa così. Per loro non lo so, ma per noi è una partita importante, ci siamo detto che questa settimana abbiamo lavorato per la partita perché è la partita che se vinciamo la partita si avviciniamo molto della salvezza. L'obiettivo è quello lì, ma la dobbiamo iniziare bene con tanta densità e determinazione come l'abbiamo sempre fatto. Abbiamo ancora due giorni per prepararla e saremo pronti per sabato.